In questo video, vedremo come fare un'appointe con o per contattare i coordinatori. Da questa pagina web, segreteriaonline.tunisi.et.home, dovete scollare fino a trovare la segreteria online. Per trovare i coordinatori, dovete cliccare su Cerca Docenti. Dovete entrare il suo coordinatore, il suo nome e il suo nome, nel campo Docenti. Non dovete compilare il campo Insegnamento, solo il campo Docenti. Per esempio, se stiamo cercando di Versichelli Luca, cliccare su Cerca. Una volta trovati il suo coordinatore, dovete cliccare su il nome e dovete trovare l'email, il sito, il sito, i giorni e il posto di ricezione. Prendete attenzione alla notte, perché trovate il semestre del vostro interesse. Grazie. 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 Grazie.